L'Ordana azione azione a mezzanotte sono le 7 siamo ancora in tempo e in domini subisco un blinde come se fossi antane aspetta non ho capito guarda io ho deciso di fare esplodere una macchina si può fare quali sono gli intoppi? gli intoppi sono pericolo di morte si vuoi che lo faccia con più violenza oppure va bene? no dico ma no no va sotto ma va pure cancella questa clip cancella questa cazzo di clip grazie a tutti grazie a tutti sempre per romperlo grazie a tutti grazie a tutti giochino Grazie a tutti